Musica La prima cosa che penso che noterete Adesso magari che zoom un attimo Ecco qui E' che non sono più negli angeli caduti Perché adesso vi spiego Non è un caso che sono finito qui nelle flecce tricolore Cioè non mi sono sfollato dopo che sono uscito da Inside Youtube Ma semplicemente perché negli angeli caduti Sono successe tantissime cose Durante la mia assenza Ma anche già un po' da prima Stavano succedendo delle cose Poi magari nel prossimo video vi spiego ben bene Un po' tutto quanto Così vi tengo un po' informati Su ciò che succede nel clan Quindi allora siamo qui nelle flecce tricolore Con il mio primo account Perché? Perché come vedete Adesso che faccio qui sul mio clan Ci sono tantissimi tantissimi membri Insomma magari che li conoscete da altri video Tipo Summus, Kiter O altri che erano degli angeli caduti come me Tipo Lucifer Cioè ce ne sono, ce ne sono tanti Siamo tutti quanti qui perché Essenzialmente Il clan degli angeli caduti Spoiler Quindi non diciamo nulla Allora andiamo a vedere qua il perché di questo video Allora stamattina mentre mi ero svegliato Ho detto Beh, ovviamente preparavo la colazione Ho detto Entriamo un attimo a raccogliere le risorse A vedere se c'è qualcosa da donare E ho trovato questo reply Vamos a reply a mim e gusta bailar Nella chat del clan Del buon vecchio Kiter Che fa da non crederci a leggenda Come vedete è un 100% Da più 24 coppie a leggenda Che è una cosa allucinante Veramente tantissime Andiamo a vedere questo reply Poi vabbè come avete detto dal titolo Già forse avete intuito come attaccato Infatti ecco qua il villaggio Lui diceva Cosa non cresci Non è riuscito a fare 100% con quell'esercito Cioè anche Ma perché come vedete Il villaggio era mezzo abbandonato Cioè trovare un villaggio praticamente abbandonato In Titano 1 È un evento più unico Che è raro in pratica E come vedete dal suo esercito Ha attaccato con 4 maghi 28 valchirie Le truppe del castello Gli eroi Ah vabbè Gli eroi Tutti e tre gli eroi E ha poi utilizzato Vabbè l'esalto per le mura E due velocità Per le pozze nere Quindi andiamo a vedere Come ha attaccato questo villaggio Che era parzialmente inattivo Cioè Ovviamente lui avrà subito pensato Vabbè non avrà le truppe nel castello Perché è come logico che sia Scusa Se almeno tu entri Per carico Per prendere le truppe nel castello Almeno la prima cosa che faccio Tipo quando entro nel gioco Dopo che vanno attaccato È riattivare le drappole Quindi Allora come vedete Ha mandato Da doppia salto Con I golem E le valchirie Subito dietro Poi siccome Le valchirie Sono più veloci Dei golem Ce li hanno superati Quindi non è servito Proprio moltissimo Però come state vedendo Cioè le valchirie Veramente stanno facendo Una strage Perché come guardate qua Si infilano Tra le bare difese E in un solo colpo Praticamente le aprono Perché essendo Una vicino all'altra Fanno tantissimo danno Mentre qua Nella parte centrale Del villaggio È riuscito ad entrare Questo golem A proteggere La strega dietro Mentre il tanto qua Il re stava supportando La zona di queste valchirie Mentre le altre di qua Proseguivano il loro giro turistico Del villaggio Quindi andiamo avanti Ah come vedete infatti qua Il golem si prende I colpi delle tesla E qui il re Protegge le altre valchirie Che erano rimaste dietro Mentre queste In maniera molto Ma molto veloce Sono riuscite ad aprire A spaccare un muro A livello 10 Quindi comunque Fanno veramente Tantissimo danno Guardate qua Con che velocità Spaccano i muri Al 10 Una cosa impressionante E infatti qua Il giusto tipo In due colpi Tirano giù Una difesa Cioè veramente Se questo nuovo livello Delle valchirie È veramente Un qualcosa Di impressionante Mentre qua Intanto il golem Continua A sorbirsi Tutti quanti i colpi La Regina è riuscita A aprirsi un barco Nei muri E andare Bella tranquilla Contro il municipio Mentre tanto Qua il re Fa Vabbè Io vado intorno al villaggio Scazzeggia un po' E spaccò quello che rimane Mentre infatti Qua nella mezza Nella zona centrale Hanno finalmente Tirato giù anche il municipio Rimasto solo Quell'arco X Fatto fuori Dalle restanti varchide Che nel frattempo Sono entrate pure Nel centro del villaggio E ha fatto questo bellissimo 100% Come vedete Il quantitativo di risorse Non è che sia eccezionale Ma uno Quando in lega leggenda Ormai se ne sbatte Talmente che ha basisi Delle risorse Punta tra le coppie 24 coppie leggenda Sono veramente Una roba eccezionale Ed eccoci qui di nuovo Sul nostro villaggio Come vedete Anch'io Non sto più di tanto Scalando Cioè nel senso Perché ovviamente Queste vacanze Non ho avuto Praticamente tempo Di attaccare Sto aspettando di Farmi I 1200 rimanenti Di elisir nero Per mettermi sulla Regina 24 E nel frattempo Mancano 5 giorni Per il TH H11 Quindi appena inizia quello Pompompon si inizia a sparare a fuoco Tutte le nuove strutture da fare E dal 15 Di aprile Inizierà La scalata Pure in questo clan Quindi Ultima cosa che voglio dire Veloce 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 Prima di lasciarvi Ai vostri cazzi È che Nel 3 aprile Probabilmente Sarò Al Games Week Di Lugano La prima edizione E quindi vedrò Cioè Penso molto probabilmente Dato che comunque ho ricevuto L'invito Di esserci E non so Cioè dovrò ancora ben vedere Un po' come arrivare Perché di solito mi muovo Sempre in macchina Ma se in Lugano Siamo in Svizzera Dove fare il bollo E costa un fracco di soldi Quindi magari verrò in treno Vabbè Detto questo Ci vediamo Al prossimo video Bella a tutti quanti